Allora siamo con Fugli di Teodoro e con Mario Ciccioni, torna, arriva, anzi Polvere di Serra, uno spettacolo non locale che sarebbe poco, ma nazionale e internazionale, vero Fugli? Internazionale, mi fa piacere che tu mi abbia domandato se è internazionale, infatti è internazionale. Pensate, abbiamo il più grande mangiafuoco che proviene dalla Turchia, abbiamo dei saldatori e dei funamboli che sono egiziani e poi abbiamo il famoso ammaestratore di Pulci che è sudafricano, come si chiama Mario? Pulcetti. Pulcetti, se è sudafrica è Pulcetti. Pulcetti, Pulcetti. Poi ci sono gruppi hawaiani, ho saputo. Sì, ci sono gruppi hawaiani, ragazzi e ragazze hawaiani. Internazionale. Internazionale, sì, internazionale. Fugli, tu mancavi molto dalle scene, insieme a lui, com'è nata l'idea di tornare alla ribalta? È tornata l'idea di tornare alla ribalta perché non possiamo fare a meno di organizzare, almeno io. Abbiamo trovato molte difficoltà, giuste difficoltà, per mettere in sicurezza il tutto, dopo i fatti di Torino e ancora ci lecchiamo le ferite per la chiusura di questo bel teatro che purtroppo non c'è più. E poi devo dire anche un'altra cosa. Questa nostra organizzazione ha richiamato, chi verrà vedrà, ha richiamato una molteplicità di gioventù che sa cantare, sa ballare, vorrebbe essere aiutata per mettersi almeno in mostra in questo brutto mondo che è l'arte che, diamo, è contornato anche da persone poco serie, poco affidabili. Pensiamo che sono loro le due star dello spettacolo, sono tanti ospiti, tanti protagonisti. Senza altro. In tre serate, tutto questo spettacolo, in tre serate. Ricordiamo le date, dove? 14, 15 e 16 luglio dalle ore 21 in Piazza Buozzi, Polvere di Stelle. Ecco, Polvere di Stelle che tra l'altro ha un ricavato in beneficenza. Sempre un ricavato in beneficenza che andrà alla Croce Rossa italiana. E qui dobbiamo fare una piccola precisazione. I costi e i ricavi vengono gestiti dalla Croce Rossa. Quindi noi siamo puliti e sereni. Perfetto. Tu invece qualcosa hai fatto, qualcosa hai fatto nel frattempo. Sei rimasto a digiuno completamente. No, assolutamente. Hai chiamato le poesie. Ah, ecco. Senti, ma quando ti ha richiamato Furio per te c'è stata una grossa emozione, te l'aspettavi? Noi siamo una coppia imbattibile, sinceramente, ma se lo vogliamo dire tutte, siamo fatti l'uno per l'altro. Uno per l'altro. Siete fatti l'uno per l'altro. Ma che stigione? Si imbattibono l'altro. Può essere? E noi artisticamente. Ma questo vuol dire tu, non altro. Noi a dormire che mai, ma come dormire che tu? Ma come deve mentare tu? Ma come deve mentare tu?